Ciao a tutti ragazzi e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog Oggi vloggo perchè stasera vado al concerto di Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo Quindi vi porto con me tutta la giornata giustamente E quindi ragazzi vi posso dire oggi mi sono svegliata ho fatto dei soliti servizi le solite cose mi sono sistemata Ho messo il computer ho mangiato un bel panino con il prosciutto e il formaggio Ora vado a fare la mia macedonia vado a fare dei piatti tempo che condivido giusto due cosettine Tempo che mi mangiano l'acedonia giusto due minuti Guardo la puntata sul computer giusto due minuti mi preparo Che tengo tutti i panni già pronti sul letto che vi faccio vedere il mio outfit E quindi ragazzi ci vediamo dopo alle prossime clip ciao a tutte Ciao a tutti 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 Milo Laggio Questa sarà una festa straordinaria questa sera 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 Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.